di Monticello Conteotto, tre serre ritrovate per la coltivazione di marijuana. Raggiunti dai colleghi del distaccamento di San Drigo, gli agenti hanno trovato un impianto completo di lampade, deumitificatore, ventilatore e filtri per l'aria. All'interno delle serre una decina di piante di marijuana alte poco meno di un metro, oltre ad una trentina che erano già state recise e raccolte. Gli agenti hanno trovato circa 300 grammi di foglie e inflorescenze essicate pronte per il confezionamento. L'autore della coltivazione, conosciuto le forze dell'ordine davanti agli agenti, ha ammesso l'illecito, giustificandosi con la necessità di ottenere maggiori introiti per la difficile situazione economica in cui versa la famiglia. Questo non ha evitato al 24enne una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per coltivazione, produzione e detenzione illecita di sua stanza stupefacente. L'impianto è stato smontato e assieme a tutta la coltivazione è stato posto sotto sequestro. a disposizione dell'autorità giudiziaria.